Lancia il pallone in avanti, De Vrij ha fatto buona guardia, Di Francesco, provano a partire in velocità. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare gli estremi. C'è un'opportunità per il giro, un gol pazzesco, pazzesco, è l'ora, è l'ora, è l'ora. Rapidi e letali, hanno sfruttato questo contropiede.